E' stata presentata questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pordenone FONSI, la nuova applicazione per smartphone che permette di pagare la sosta del proprio autoveicolo in modo semplice e veloce. Questa è una nuova modalità di pagamento della sosta che è stata ampiamente richiesta dagli vari utenti. Rappresenta in maniera evidente un risparmio importante in termini di costi di gestione e una facilità di utilizzo dell'app. Quindi riteniamo che in prospettiva questo dovrebbe facilitare il pagamento, l'eliminazione di tutto ciò che riguarda la carta, il costo di gestione del sistema eccetera. I vantaggi di questo nuovo servizio, nelle parole del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Oggi abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello nella nostra città per farla diventare una città, come si dice adesso, smart, cioè intelligente. È un'applicazione molto semplice, si chiama FONSI, lo potrete usare con gli vostri smartphone, quindi con i cellulari che ormai moltissimi di noi hanno. È gratuita per chi utilizza l'applicazione, quindi la tariffa resta assolutamente mutata anche utilizzando questo canale di pagamento, ma verrà come per alcune tariffe telefoniche si pagherà veramente quello che si consuma. Quindi sia potendola interrompere quando si vuole, sia potendola prolungare come si vuole. Lo vediamo come un passo in avanti, esattamente in linea con quel nostro modello a cui tendiamo, di tante cose intelligenti per far sì che la nostra vita sia di qualità migliore. Grazie.